I conti non tornano, non tornano! I conti non tornano, non tornano, non tornano, non tornano, non tornano. I conti non tornano, 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 E' un uomo di fumo? Un uomo di fumo? Se di uomo mi sembra che abbia solo gli stivali Miraclus! Voi siete lo salvatore mandato dallo Dio e purificato dalla fiamma dello fogo E' un uomo come tutti gli altri? No, novus profetus mes E' il solito charlatano venditore di fumo in cerca di fortuna E' il solito gené Grazie! Grazie a tutti